La Will Agrigendina rilancia il dibattito sull'installazione del rigassificatore a Porto Empedocle si dichiara nettamente a favore. Particolari nel servizio. Dopo aver dinunciato più volte l'aumento delle bollette e la situazione gravissima in cui versano i nostri concittadini, è arrivato il momento di riproporre questioni che da anni avrebbero potuto essere parte della soluzione ai tanti problemi di oggi. Il segretario della Will Agrigendina, Gero Acquisto, senza mezzi termini, dichiara non è più il caso di procrastinare mai come ora necessitiamo di approvvigionamenti energetici. Non si fa altro che parlare di transizione energetica e soluzioni sostenibili. Ciò che ci preoccupa è come arriveremo al raggiungimento di questi obiettivi. Indubbiamente anche nella nostra provincia si sono fatti dei passi avanti, ma la produzione di gas in Italia è arrivata ai minimi storici, nonostante il nostro territorio sia ricco di giacimenti di gas, dipendiamo dalle importazioni, che a causa delle situazioni di crisi attuale rappresentano un problema che graverà sull'economia dei cittadini e del nostro territorio, già martoriato a sufficienza dalla pandemia. Gli aumenti del costo delle materie prime e dell'energia ci impongono di riconsiderare il sistema di approvvigionamento delle materie prime stesse, soprattutto per ciò che congene il gas, dichiara il segretario della Will Tech Agrigendina, Giovanni Mancanella. L'interesse di Enel sul progetto che riguarda la costruzione di un rigassificatore a Porto Empedocle e la recente sentenza del Tar che consente la costruzione del gasdotto che collegherebbe il terminale alla rete nazionale, ci fa sperare che qualcosa si muova ancora. I due sindacalisti, Acquisto e Mancanella, ribadiscono che riproporre la costruzione di questa infrastruttura energetica oggi è fondamentale per la provincia agrigentina, per la Sicilia e per il Paese in generale. Il progetto aveva una capacità produttiva di 8 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Rimettere in piedi e portare a termine anche la costruzione del rigassificatore, compreso il metano dotto di collegamento alla rete nazionale, necessita comunque di tempi medio-lunghi. Il Paese avrebbe bisogno di almeno 4 rigassificatori perché la transizione energetica avverrà nel lungo periodo attraverso l'uso del gas.